Simone Giannelli, l'Italia ha conosciuto la prima sconfitta nella World Cup al termine di un incontro iniziato male, poi cercato in tutte le maniere di rimetterlo in piedi e forse qualcosa di più avrebbe meritato. Sì, noi sapevamo che gli Stati Uniti sono una grande squadra. Il primo set purtroppo ci ha messo subito sotto con la battuta secondo me Anderson ha fatto un bel break e ci ha spettato un po' le gambe il primo set. I terzi set li avevamo presi, eravamo lì punto punto e poi sti bravi loro o forse abbiamo sprecato qualcosa a noi e ha vinto loro. Il torneo è molto lungo, non dobbiamo buttarci giù, ovviamente vi spiace molto ma non dobbiamo buttarci giù e poi siamo finito a lavorare in vista delle prossime partite. Un ragazzo così giovane come te che affronta questa manifestazione cosa rimane dopo una partita persa in questa maniera? Ma cosa rimane? Per adesso quello che posso dirti è che rimane delusione perché io ci credevo in questa partita e secondo me potremmo fare meglio. Però mi butto giù assolutamente, cercherò di prendere tutte le cose negative che mi ha fatto oggi per trasformarle poi in positive in futuro.